Dunque, direi che possiamo riprendere come vi anticipavo prima. Facciamo un esempio. Seguiamo l'esempio che vi ho messo online nella settimana 02. Siamo nella seconda settimana. Nella pausa vi ho messo online questo file che abbiamo provato insieme con l'esempio della programmazione funzionale. Ma è lo stesso che trovate su internet. Lo provate in Visual Studio Code, fate qualche modifica, togliete Reduce, stampate l'array che viene fuori. Così vi fate un po' un'idea di quello che si fa. Ok, andiamo a vederci l'esercizio. Vogliamo gestire un pochettino di oggetti. Un'altra volta abbiamo fondamentalmente lavorato sugli array. Nella soluzione che vi ho messo online per il secondo esercizio dell'altra volta, che non abbiamo fatto in aula insieme, gestivamo le stringhe ma che non sono tanto diverse dagli array, basta ricordarsi che non sono modificabili, però sono iterabili, quindi hanno molti dei metodi che sono a disposizione per gli array. E in questo terzo esercizio ci concentriamo un po' di più sugli oggetti. Ok, quindi vogliamo gestire una semplice struttura dati come un array di oggetti. Ok? E lo facciamo portando avanti una specie di tema, di filo conduttore, che ci porteremo avanti durante il corso, perché poi sopra, avendo a disposizione un po' di codici che mano a mano costruiamo nelle varie lezioni, ci costruiamo una mini applicazione web, una piccola applicazione web passo passo, con tutte le caratteristiche che mano a mano impariamo a lezioni. Vogliamo usare ovviamente oggetti javascript e i metodi di programmazione funzionale, quindi quando ci sarà bisogno chiariamo questo e cerchiamo di usarli, per gestire degli oggetti che contengono informazioni riguardo a delle domande e risposte. Quest'anno abbiamo scelto di provare a scrivere una piccola applicazione tipo Stack Overflow. Cosa c'è in Stack Overflow? C'è la possibilità di porre delle domande e ci sono tanti che danno delle risposte alla stessa domanda. E c'è la possibilità di dare dei voti. Questa mi piace di più, quindi prende un app vote, viene votato più uno, la risposta che pare meno bella, piace meno, eccetera, prende i voti meno e quindi a un certo punto si crea una specie di graduatoria tramite dei voti e delle varie risposte alla stessa domanda. Quindi noi per ora siamo in una fase molto più astratta, quindi stiamo ragionando sulla struttura dati e ragioniamo sulle domande e risposte e decidiamo che la nostra risposta ha quattro caratteristiche, quattro valori, quattro proprietà, le chiameremo in un'oprogrammazione oggetti, il testo della risposta, il nome di chi ha risposto, il valore, il voto, un numero intero positivo o negativo, e la data. Mettiamo anche dentro la data, così già che ci siamo, portiamo dentro una libreria e facciamo un po' di pratica anche con la libreria. Definiamo una funzione costruttore, answer, quindi risposta, per creare una o più risposte di questo tipo qua. Quindi, ricordate che abbiamo detto che gli oggetti li possiamo creare anche con la funzione costruttore, e facciamo una prova. E poi ci sono le domande che sono fatte da testo, nome di chi ha fatto la domanda, data e lista delle risposte. Quindi ci sarà un array collegato dentro ogni domanda con una lista di risposte. Definiamo anche in questo caso una funzione costruttore question per rappresentare la domanda e implementiamo in question, nell'oggetto question, questi metodi. Quindi, come dire, facciamo una specie di oggetto tipo programmazione oggetti in cui definiamo delle proprietà e dei metodi. Lo facciamo ovviamente con javascript, in stile javascript, quindi non creeremo un prototipo, non creeremo una classe, e poi istanziamo un oggetto, ma creiamo direttamente l'oggetto. E proviamo a caricarci dei dati, e poi alla fine sostanzialmente facciamo un po' di console log per vedere se abbiamo fatto le cose correttamente per provare un pochettino questi metodi. Quindi apriamo il nostro Visual Studio Code, che è la stessa cosa che farete voi in laboratorio per fare i vostri esercizi. Mi ricordo, quest'anno non sono da consegnare, però ovviamente se provate a farli, è tanto di guadagnato, no? Seguite il corso mano a mano che andiamo avanti con gli argomenti e se avete dei problemi, soprattutto siamo lì ad aiutarvi. Io ho i miei due colleghi, Antonio Servetti e Ross Fani, che vedrete appunto dopo domani in laboratorio, secondo del gruppo in cui siete. Ok, quindi, allora, come facciamo? Prima cosa, io lavoro sempre in week 02, perché così poi vi posso direttamente fare commit, push e vi viene a disposizione. Voi lavorate dove credete, a seconda di come siete abituati, se volete usare git o no, non c'è nessun problema. Come vi dicevo per il progetto finale, potete aver lavorato dove volete, prendete tutto, lo copiate nel repository che vi diamo noi, fate commit, push, tag per dire che consegnate, fine, ci saranno istruzioni. Quindi, vedete voi. Ok, quindi, allora, creiamo un nuovo file, lo chiamiamo question and answer, qajs, file vuoto, quindi chiudiamo pure il vecchio, e usiamo sempre use strict, la prima cosa che scriviamo, via, salvato, ok, bene, allora, la prima cosa che ci viene chiesta, no, queste slide non ci servono più, la prima cosa che ci viene chiesta, definiamo una funzione costruttore answer, con queste quattro proprietà. Vi ricordate come si definisce una funzione costruttore? Function, answer, giusto? Ok, diamo dei parametri, come se fosse una funzione costruttore, quindi come se fosse il costruttore, di un'ipotetica classe che noi scriviamo, e poi li metteremo come proprietà, ok, quindi, avevamo il text, non cambia tutti i momenti sul test, se no non finiamo più, poi c'era respondent, sembra, sì, score, score, e date, ok? come facciamo a fare in modo che questa diventi una funzione costruttore? dobbiamo assegnare questi parametri del nostro, diciamo, ipotetico costruttore al this, come se fosse la proprietà del this, che è un oggetto speciale in javascript, di cui parleremo più avanti, per ora, diciamo, ci accontentiamo di questo, eh, di sapere questo, this text uguale a text, this respondent, respondent, this, cos'era, score, uguale a score, this date, un po' noioso, potrebbe, quasi, potrebbero quasi farcelo automaticamente, allora, così facendo, nel momento in cui noi andremo a scrivere, un, no, non l'abbiamo fatto dopo, lo facciamo, ci facciamo, proviamo a creare un answer, così ce la stampiamo, e vediamo direttamente se abbiamo fatto giusto, no, mano a mano che costruiamo il codice, eh, lo proviamo, no, che è la cosa più semplice per evitare di introdurre dei bug, se riusciamo, eh, perché poi col web diventerà un po' più complicato, però, diciamo, programmiamo semplice, eh, allora, const, ans1, uguale, eh, no, scusate, non virgolette, ma cosa bisogna fare, se abbiamo una funzione costruttore, vogliamo costruire un oggetto in questa maniera, c'è il classico new, eh, se non vi ricordate più, andate sulle slide della volta scorsa, new, eh, answer, aperta tonda, e diamo i parametri, eh, che vogliamo che finiscano nell'oggetto, quindi, text, dunque, cosa è che avevo sognato qui? Ah, sì, avevo fatto una domanda, qual è il miglior modo di enumerare un array in javascript? così, abbiamo quattro risposte, eh, for you, uguale a zero, for off, tanto per rimanere in tema, allora, diciamo, diamo una di queste risposte, eh, boh, virgolette singola, virgolette doppia, non cambia niente, eh, cambia col back tick, se noi dovessimo mettere qualche parametro, ma qui mettiamo una stringa fissa, quindi non cambia nulla, diciamo, la prima avevo scritto for off, ok? a breve un po', eh, uno potrebbe mettere anche gli a capo e tutte queste cose, però, eh, diciamo, cerchiamo di stringere, perché il tempo a lezione è preziosissimo, diciamo che ha risposto Alice, eh, e a questa domanda, in questo momento ha segnato lo score 3, ok? E la data, la data comincia a essere un po' rognosa, eh, allora, va bene, adesso diciamo così, io adesso scrivo così, eh, giusto per fissare le idee, cos'è oggi il 6, no, 7, vabbè, farò lo stesso, 0, 7, ok? Adesso, ovviamente questa non è una data, questa è una stringa, poi dentro io c'ho scritto una data, facciamo solo una prova per vedere che funzioni, poi, un sol, log, ans, 1, sì, io cerco di farvi le cose, come dovreste costruirle piano piano, mentalmente, voi, se non sapete ancora, poi è chiaro che chissà già, diciamo, questi esempi lasciano un po' il tempo che trovano, però, eh, quindi facciamo node, dunque siamo in week 02, giusto, sì, qua, quindi node, qua, js, ok, abbiamo creato il nostro oggetto, ci è venuto fuori stampato, tra l'altro carino, perché se lo fate, se lo fate in, nel python tutor, per dire, viene su una riga sola, eccetera, se lo fate nel, in visual studio code, diciamo che c'è tutta questa evidenziazione, eccetera, che è un po' particolare, ma è dovuta all'ambiente, no, quindi, il fatto che il terminale gira nel visual studio code, eccetera, se io andassi, nel terminale standard, ovviamente non ho tutte queste funzionalità, eh, week 02, node, si può fare, questa è la stampa, no, vabbè, è così raffinato, va bene, anche il terminale è abbastanza raffinato, e il node, allora, è abbastanza raffinato, ok, mi consente anche di aprire certe cose, vabbè, comunque, va bene, quindi, console.log, ho fatto la mia prova, devo gestire questa data, come faccio? vi ricordate, abbiamo visto le slide, un po' in fretta, a dire la verità, eh, sulla data, però vi ho fatto vedere anche un esempio di come importare una libreria, siccome, se non sbaglio, a breve, brevissimo, di oggi, penso, metteremo online il testo del laboratorio, ci sarà da mettere dentro una data, vediamo come fare, no, noi abbiamo consigliato come libreria, DayJS, DayJS, che, è, diciamo, una delle più comode, per i nostri scopi, quindi, è piccolissima, si importa, l'unica cosa che bisogna poi importare, dei modulini, per far cose un po' più avanzate, ma, va bene così, quando c'è tutto sulle slide, ok, allora, la prima cosa da pensare è, nel momento in cui, io ho da portarmi dentro una libreria, e non posso più gestire tutta la cosa in un unico file, o i file della libreria, da mettere da qualche parte, quindi, io vi consiglio, nel momento in cui avete una libreria, o delle librerie nel vostro progetto, di farvi una cartella, quindi, di non lavorare così, in un posto, più o meno a caso, perché poi, dentro quella cartella, così, avrete le librerie, di quel progetto, e solo di quel progetto, private di quel progetto, quindi, noi creiamo una cartella, la chiamiamo, question and answer, chiamiamo esempio, esercizio, se no mettiamo pure esercizio, tanto facciamo solo questo, in questa settimana, prendiamo il QA, ce lo mettiamo dentro, fai attenzione, si, ok, attenzione che qui adesso, io l'ho messo dentro, quindi qui non funziona più, ma non è un problema di node, che deve essere nella cartella giusta, quindi queste sono banalità, ma fare attenzione, se in laboratorio vi piantate, su una cota così, siamo lì, cerchiamo di darvi una mano, ok, mettiamo la data, quindi abbiamo detto, dayjs, come facciamo a mettere la data, npm init, perché si fa npm init, perché per usare le librerie, con node.js, dobbiamo, prima di tutto, inizializzare il, come dire, il progetto, no, npm init fa questa cosa, l'abbiamo visto l'altra volta, ci chiede un nome, eccetera, eccetera, noi diamo invio, 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 ok, è un file di configurazione del progetto, che ci viene creato automaticamente, senza il quale però non si può fare nulla, perché lì dentro vengono messe, poi viene messa la lista delle librerie, ok, dobbiamo far così, a questo punto facciamo, npm install, dei js, ok, dovete sapere come si chiama la libreria, se non lo sapete andate in giro, ci sarà, un esempio, qualcosa, se non c'è scritto sulle slide, come installare la installation, ecco, nojs, come si installa, npm install, dei js, ok, trovate facilmente, questo tipo di informazione, comunque, se ci sono dei problemi, soprattutto all'inizio, chiedete, ci serve la connessione internet, perché, viene scaricata da internet, quindi c'è un repository in giro per la rete, come, che so, avete Linux, c'è un repository di pacchetti, fate aggiorna, o su Windows, fate aggiorna, eccetera, c'è un repository a qualche parte, qualcuno mantiene un repository per node, di questi pacchetti, ok, che è configurato, nel momento in cui non facciamo npm init, no, che è il motivo per cui ci serve, eccetera, sono spuntati dei nuovi file, e per questo, e delle nuove cartelle, per questo vi dico di lavorare in una sottocartella, così, se poi, fate un altro esercizio, che magari richiede altre librerie, eccetera, volete fare altre prove, non disturbate, disturbate, eh, l'altro progetto, e tutto rimane isolato, ok, a noi questi pacchetti, questi file interessano, fino a un certo punto, ve ne apro, il più importante, che è il package JSON, giusto per farvi vedere, cosa è successo, è successo, semplicemente, che con l'npm, insta, day.js, c'è scritto, che nelle dipendenze del nostro progetto, c'è day.js, quindi, nel momento in cui, ci sarà da riconfigurare il progetto, eccetera, da riscaricare le librerie, aggiornare le librerie, eccetera, qui c'è un posto, dove c'è scritto, quali sono le librerie, che vi servono, se ne installate un'altra, spunterà qua, e così via, ok, e node modules, è una cartella, dove ci sono tutti i file, delle librerie, ma noi, non la apriamo adesso, giusto così, per curiosità, ma noi non la toccheremo mai, ok, come non andate a cercare la cartella, dove c'è la libreria C, con tutti i metodi del C, no, dalla scanf alla printf, la usate, la linkate, la linka automaticamente il compilatore, quando la usate, e finisce lì, ok, quindi noi ci concentriamo su qua, package.json, lo possiamo chiudere, ok, a questo punto, possiamo, usare la libreria, per usare la libreria, è necessario all'inizio, come si diceva anche sulla pagina, sitting in no.js, mettere questa, questa istruzione, che cosa fa poi questa istruzione, tra l'altro, incolla, mettiamo il punto e virgola alla fine, che a noi piace il punto e virgola, const dei js, crea una nuova variabile, costante, una costante, dei js, che è un riferimento ad un oggetto, che viene ritornato, da questo require, che è una direttiva a disposizione, dentro un no.js, che va a prendere, tutto quanto necessario, dalla libreria, ce lo mette a disposizione, quindi di fatto, dei js, diventa, un riferimento ad un oggetto, che ha dei metodi, che noi poi possiamo chiamare, ok, quindi se noi facciamo, che so, let now, uguale, dei js, quindi può, addirittura, può essere invocato, esso stesso, e poi facciamo, console, log, ma facciamolo sopra, tanto, così lo commentiamo, console, log, now, vediamo cosa viene fuori, adesso vediamo, se viene un pasticcio, viene qualcos'altro, ok, ci viene fuori l'oggetto, dei js, che contiene, la data e l'ora corrente, nel suo formato, questo, penso cos'è, sarà, utc, non lo so cos'è, non è locale, non è l'ora italiana, questo ci ha stampato l'oggetto, se noi vogliamo, formattarlo più decentemente, dobbiamo andare a cercare, cosa dobbiamo fare, per, con dei js, per avere la formattazione, che desideriamo, la cosa più semplice, usare il metodo format, come c'era anche sulle slide, quindi proviamo a fare così, punto format, ok, ecco, e ci viene, una formattazione ragionevole, che tra l'altro, tiene conto del locale, impostato sul computer, che è, Roma, Italia, e quindi, ce lo aggiusta, con la, come si chiama, il fuso orario appropriato, ok, abbiamo messo a disposizione, dei js nel nostro progetto, ok, a questo punto, ecco, aggiustiamo questa data, no, io ho messo una stringa, ma io vorrei un oggetto, che mi rappresenta una data, perché, perché poi, sopra vorrei poterci fare, dei lavori, non quindi, ok, ordinare, diciamo che con questo formato, con la stringa, me la caverei, però, se devo, che so, fare una differenza, capire quanti giorni, quanti anni, quanti mesi, quanti minuti, prima è stata messa una domanda, piuttosto che un'altra, e così via, ho bisogno di un oggetto, che mi dia queste operazioni, non è pensabile, che io mi metta a implementare, tutte le, funzionalità, andando a fare inconti, con giorni, mesi, anni, ore, minuti, e così via, perché, perché non, non ha senso, no, dobbiamo spendere il nostro tempo, su qualcosa di più, interessante, ok, allora, come facciamo a creare, la nostra, la nostra data, quindi, new answer, dobbiamo andare, nella, o nella guida, oppure, andiamo sulle slide, e andiamo a riprenderle, tanto, alla fine, c'è nulla di male, no, alla fine, le diamo anche un po' come guida, no, ecco, vogliamo, vogliamo creare una data, possiamo usare, dei gs, come funzione costruttore, no, lo possiamo fare in tante maniere, prende diversi formati, questo è l'oggetto data, è l'oggetto incluso in Node.js, cioè in javascript, nell'ambiente javascript, che però non vogliamo usare, perché, come diceva un'altra volta, ha un po' di problemi, però di per sé, se ce l'abbiamo, possiamo anche convertirlo in IGS, usiamo un formato simile a questo, quindi, anno, mese, giorno, ci sono molti formati automaticamente riconosciuti, e se no, dovremmo in qualche maniera, dirgli qual è il formato, col quale gli passiamo l'informazione, e gliela passiamo, sotto forma di stringa, perché noi, in un editor di testo, più che stringhe, non possiamo passare, ok, quindi, sotto trovate poi il link, se vi serve, per andare a approfondire, quindi diciamo che noi facciamo così, dayjs, e creiamo, dayjs, e creiamo la nostra data, ok, che non è la data corrente, come facevo prima, questa è la data attuale, presa dal computer, no, il computer in suo interno, ha il suo orologio, e prendiamo la data da lì, e quella invece è una data che decidiamo noi, ristampiamo, ecco, non è il massimo, perché, perché, perché data è un oggetto, è un oggetto, avrà un suo modo di presentare le informazioni default, ok, il console.log va a usare questo modo, per le stringhe, per i numeri, eccetera, il modo è molto semplice, per gli array è abbastanza ragionevole, e per gli altri tipi di oggetti dipende dall'oggetto, ok, allora cosa facciamo, guardate, già che ci siamo, se qualcuno ha delle idee, mi raccomando, parli, questo è il momento di parlare, perché, può essere interessante, anche per tutti, no, beh, abbiamo detto che, negli oggetti javascript, possiamo anche creare dei metodi, cioè, alla fine cosa è un metodo, non è nient'altro, che una proprietà, a cui assegniamo riferimento a una funzione, quindi creiamo una funzione, e la assegniamo ad una proprietà, così, abbiamo, il nostro oggetto, answer, sul quale possiamo chiamare, che sono funzioni, converti in stringa, e questa, conversione, la possiamo usare nel console.log, per stampare decentemente, tutte le informazioni, ha una domanda? Sì, si poteva, si poteva, sì, funziona subito, eccetera, il motivo per cui, chiediamo, cioè, chiediamo, non è che chiediamo, raccomandiamo, djs, perché poi ci saranno, dei momenti in cui, le cose, non funzionano più, non funzionano più bene, ci sono dei bug, eccetera, per cui, djs, vi crea, un po' di problemi, e il date standard, crea un po' di problemi, però, in questo esempio, è completamente indifferente, ha ragione lei, nel senso che, potevamo fare new date, come c'era, dove, nelle slide, dove sono andate, dove, ok, quindi, potevamo fare un new date, e creavamo, ugualmente, una data, un oggetto data, ovviamente, va gestito, con le regole, dell'oggetto data, di javascript, quindi, in questo momento, non mi ricordo neanche più, come si faccia, bisogna andare a vedere, perché qui è tutto, dai javas, forse se fa il console log, viene già un qualcosa di decente, se no, ci sarà un metodo, format, o qualcosa di simile, anche lì, e, otteniamo, una data, scritta, in una maniera, un po' più ragionevole, come, come desideriamo noi, ok, proviamo a fare questo metodo, grazie, comunque per l'intervento, perché ogni tanto è bene, valutare anche le vostre idee, perché se no, alla fine, allora, diciamo che io il metodo, lo chiamo string, str, chiamatelo, toString, come volete, e questo, lo voglio far diventare un metodo, quindi anziché assegnare un valore, ci assegno una funzione, ok, quindi, facciamo una funzione normale, function, non prende parametri, e mi stampa, il contenuto dell'oggetto, quindi, diciamo, return, metto il back tick, perché mi viene comodo, così intanto lo usiamo, dunque dov'è che si fa, sul nome, sullo zero, eccolo qua, ok, dovete cercarlo, ci sarà una combinazione di tasti, sulla tastiera che ve lo fa, alt, più qualche numero, qualcosa di questo tipo, ma cercate su internet, ogni sistema operativo ha la sua maniera, e, cosa stampiamo, già che ci siamo, non stampiamo solo la data, stampiamo tutta l'informazione dell'oggetto, così abbiamo un metodo comodo, per vedere tutta l'informazione dell'oggetto, quindi, diciamo che, cosa possiamo dire, questo tizio, no, la risposta, facciamo la risposta, this text, ok, si apro, dollaro graph, ci metto dentro un'espressione, questa viene, convertita in stringa, e messa dentro la stringa, ok, diciamo così, buy, da, da, tizio, che è il, this respondent, e questa era la risposta, on, nella data, andiamo a capo, intanto col backtick, ecco, una cosa si può fare col backtick, è andare a capo, on, poi bisogna però vedere, se ci metto lo spazio, vabbè, comunque, on, mettiamo un'altra espressione javascript, quindi, mettiamo la data, quindi qui non possiamo scrivere, this date e basta, se no torniamo al caso di prima, cioè, lasciamo fare la conversione, in maniera automatica, che non ci piace, la conversione la possiamo fare, con un metodo dell'oggetto, che abbiamo creato, col DGS, quindi, se voi andate a vedere, c'è format, non fidatevi troppo, di questi suggerimenti, nel senso che, il Visual Studio Code, funziona molto bene, ma non è, la bibbia, nel senso che, può darsi che per qualche motivo, non agganci qualche metodo, o qualcosa, e che, che invece ha a disposizione, è molto comodo, quando funziona, però, non è che, se questo non vede il metodo, il metodo necessariamente, non esista, perché magari, non lo vede per qualche motivo, perché non ha capito, che questo potrebbe essere, un oggetto di un certo tipo, tra virgolette, e così via, ok, io qui, taglio un po' breve, se voi andate a cercare, sul manuale, vedrete, come si può scrivere, un formato, sotto forma di stringa, per il DGS, io qui, scrivo uno, abbastanza intuitivo, eh, anno, mese, giorno, con i trattini, e così, la data verrà convertita, in questo formato, e poi ci mettiamo score, e così abbiamo finito, di stampare tutto il resto, il resto era, this score, che non presenta, particolari problemi, ok, punto, no, devo, perché c'era il tick, ah no, il back tick, non ci vedo, ok, va bene, allora, abbiamo fatto una funzione, no, come facciamo? Adesso, anziché, ans1, stampiamo ans1, str, non prende parametri, la chiamiamo, un oggetto, normalissimo, proviamo, ok, quindi, si può andare a capo, con il back tick, però tutto quello che si mette, rimane dentro, ok, quindi, vedete voi, se volete, fate, chiudete, poi fate più, così non vi viene, la capo, insomma, però questi sono dettagli, no, di come costruire la stringa, una questione di comodità, perché ho lasciato la capo, foro, ah no, niente, no, non è la capo, questo è il console log che abbiamo fatto prima, che è l'istante corrente, no, e qui, e qui abbiamo farmottato la data come ci piace, non ci interessa l'ora minuti, in questo momento, potrei metterli, ci sono, ma saranno zero, credo, di default, visto che non li ho specificati, e ho fatto un metodo, di un oggetto, e lo chiamo, e lo chiamo con questa modalità, ok, bene, a questo punto, torniamo sull'esercizio, dovevamo fare un oggetto question, con dei parametri, in particolare la lista delle risposte, ok, quindi proviamo a fare un secondo oggetto, lo facciamo con lo stesso stile, quindi sempre con la funzione costruttore, così diciamo creiamo un, che non va giù, uffa, ok, così facciamo un po' di pratica, function, possiamo anche farlo diverso, possiamo scrivere question uguale, const question uguale, vabbè, adesso facciamo così, question, dunque avevamo come parametri, il testo della domanda, e chi fa la domanda, il questioner, e la data, anche lì, ok, allora, this text, come prima, text, facciamo punto e virgola, this, this questioner, uff, ok, ok, this date, ok, e poi ci serve la lista, la lista, è una proprietà, del nostro oggetto, niente di speciale, no, quindi, this, chiamiamola pure lista, no, question list, chiamatela come volete, diciamo, inizialmente, possiamo metterci, ops, vuota, eh, quindi, quadre, non graffe, ovviamente, le graffe sono un oggetto, le quadre sono un array, no, una lista, di fatto cos'è, un array, ok, le array sono dinamici, quindi, noi faremo push, ci mettiamo dentro un nuovo elemento, e così via, ok, va bene, quindi, la question non è che crea particolari problemi, è come l'altra, no, diciamo che, voglio provare questo codice, cosa faccio, crea una question, const q, new question, dunque, cosa avevo scritto come domanda, quella che vi dicevo, best way, best way, of enumerating an array, in JS, ok, la pongo io, la domanda, ah, devo chiudere la, la stringa, e poi, c'è un momento in cui lo posta, quindi, oramai sappiamo mettere le string, le date, e, eh, specifichiamo in quella modalità, diciamo che lo posta, non oggi, ma un po' di tempo fa, 0, 2, 28, così, boh, question, ok, volendo faccio con solo question, vedo se funziona, ok, niente di particolare, e, vorrei però, collegare, quindi cominciare a risolvere l'esercizio, collegare una risposta ad una domanda, no, quindi, infatti, mi dice, dentro questo, oggetto, question, domanda, metti una serie di metodi, no, quindi scrivi una serie di metodi, questa è la parte un po' più interessante, perché adesso proviamo a gestire questo array, fare un po' di programmazione funzionale, quando c'è bisogno, e così via, ok, quindi, add, cominciamo col primo, così, riusciamo ad avere, la possibilità di mettere qualcosa dentro quell'array, notate che io potrei fare, vi faccio notare solo questo, q list, push, beh, ans1 in realtà, devo prima definirlo, devo spostarlo sotto, quindi, contro, io potrei far così, questo, questo, non è privato, vi ricordate, javascript, tutto pubblico, quindi, i peggiori pasticci sono possibili, se io avessi un linguaggio di programmazione oggetti ragionevole, avrei scritto, questa qui sarebbe la classe, non una funzione, avrei messo privato, this list, e questa cosa non funziona, no, perché io vorrei, che list sia gestito solo dai metodi, che poi creo dentro question, però purtroppo in javascript, questa cosa non si può fare, si può fare solo con le closure, ma diventa un pasticcio, io non vi consiglio di fare questa operazione, perché diventa macchinoso, e appunto, chi fa una libreria, magari lo fa, perché non sa, non gestisce tutto il codice, non vuole che voi, possiate toccare niente, della, di quello che c'è dentro la libreria, però, noi, diciamo, evitiamo di farlo, e, come dire, cerchiamo di fare un po' attenzione, quando usiamo un oggetto che abbiamo creato noi, a usare i metodi, che noi abbiamo definito, per manipolare i dati al suo interno, quindi questa cosa non la facciamo, diciamo che noi creiamo un metodo add, e adesso ce lo creiamo, come facciamo a crearlo, e come abbiamo fatto prima, this str, this add, uguale, e andiamo a scrivere del codice, no? Cosa facciamo, un arrow function, sì, dai, così facciamo pratica, un nome di una variabile qualsiasi, tanto questa è temporanea, come tutti gli altri, che so, e, non so, a me piace, però, mettete quello che volete, lo facciamo, questo è l'elemento, è il riferimento dell'oggetto answer, no? che noi mettiamo dentro list, e quindi cosa facciamo? this list, push, quello che avremmo fatto fuori, così ci dà il valore di ritorno della push, che non so cosa sia, ma tanto dalla add, qui sotto non andiamo a prenderlo, vedete come volete, se vi crea fastidio, ci mettiamo le graffe, se no non ce le mettiamo, tanto è indifferente, fa lo stesso, il valore di ritorno tanto non lo usiamo, ok? Bene, quindi qui abbiamo aggiunto un metodo, a question, ok? Come abbiamo fatto ad aggiungere un metodo? Abbiamo creato una proprietà, abbiamo assegnato una funzione, javascript è tutto così, ok? Va bene, quindi, diciamo che ci possiamo fare un, ecco, passiamo al secondo, find all, così poi aggiungiamo due o tre cose alla, alla domanda, aggiungiamo due o tre risposte, ci facciamo stampare qualcosa, quindi, ritorna tutte le risposte di una certa persona, find all, ok, allora, this find all, uguale, proviamo a scriverla sempre sotto forma di arrow function, abbiamo tutte le risposte di una certa persona, allora, ci serve ovviamente un parametro che è la persona che cerchiamo, quindi la stringa che dice il nome della persona che cerchiamo, metto name, ecco, fate attenzione, ogni tanto escono, non deve essere tolto liste, quindi, non ho capito, ah, no, ha ragione, ha ragione, bravissimo, giusto, è stato, è vero, se no, appunto, facciamo, facciamo noi, e poi, liste non avrà add, e quindi ci dava un errore, eh, ok, non l'abbiamo ancora provato, ma ha ragione, ok, grazie, ecco, volevo solo farvi vedere questa cosa, che è spuntata un po' di recente, eh, a Viso Studio Code, certi nomi non piacciono, ma, non fa niente, eh, eh, perché, perché magari, poi creano dei problemi di compatibilità con qualcosa, con del codice vecchio, qualcuno va chiamato name, eccetera, vedete voi, eh, se, se trascurarli o no, questi, queste cose, spesso sono dei suggerimenti sensati, quindi, e potremmo anche seguirli, però, di per sé, è solo che è deprecato, quindi, non è che non funziona, ma è suggerito non usare questo nome, ok, l'anno scorso non c'era questa cosa, quindi ogni anno, è una diversa, ma se non vi piace, non lo so, lo chiamiamo n, però n è un po' un numero, non lo so, cos'è che stavamo cercando, author name, author name, no, possiamo metterci dentro quello che vi pare, ok, quindi freccia, allora, come facciamo a cercare, allora, intanto cosa dobbiamo ritornare, ritorno a tutte le risposte di una certa persona, ho tutte le risposte, in realtà, allora io qui ho scritto una cosa, però era diversa, va bene, non è esattamente quella, va bene, però ci porta già la programmazione funzionale, va bene, va bene, facciamolo, abbiamo fatto la programmazione funzionale, lo facciamo, allora, abbiamo la lista, this, list, e questo è l'array, come facciamo a estrarre un sottorray che abbia certe proprietà, stamattina, nella prima ora e mezza, eh, non ho capito, map, map ci copia tutto l'array, nel senso che prendiamo tutti gli elementi, e creiamo un array che ha lo stesso numero di elementi, filter, esatto, di fatto sono poi map e filter, che andiamo a usare tanto nel nostro codice, filter, apriamo tonda, così ci ricorda cosa vuole, vuole una funzione, che, eh, ci ritorno, i true, quando c'è l'elemento che ci interessa, così prende, e copia nell'array il risultato, ok, quindi, eh, dobbiamo passare una funzione, quindi apriamo una, un, diciamo, scriviamo una funzione, come arrow function, che ci piacciono, vi piaceranno tantissimo, eh, dunque, l'elemento, eh, a noi interessava, la domanda, l'abbiamo costruita con respondent, respondent, no, scusate, e, e è quello che cerchiamo, è l'autor name, quindi in realtà, eh, ok, noi, eh, scriviamo, aggiustiamo, mano a mano che, sto debbiando da quello, quindi, eh, quindi, e respondent, perché e è l'elemento dell'array, che è un riferimento a un oggetto, è un oggetto answer, per cui se noi ci interessa respondent, dobbiamo fare, e.respondent, uguale, uguale, eh, autorname, ok? Le graffe, eh, se mettiamo le graffe, abbiamo bisogno di un return, come diceva il vostro collega, altrimenti abbiamo un return on the function, quindi io ho messo le graffe così, io non sapevo dove andavo a parare, però, bisogna fare attenzione, nelle arrow functions, se mettiamo un'espressione, quello è il valore di ritorno, se mettiamo le graffe, dobbiamo esplicitamente mettere il valore di ritorno, se no, c'è, eh, undefined, ok? Quindi, la filter ritorna un array, ed è esattamente quello che noi vogliamo ritornare col find all, e quindi facciamo return, ok? E abbiamo scritto tutto, ok? Proviamolo, che è sempre la prova del 9, io adesso vado a prendermi la mia bozza, in cui, ogni tanto faccio questi truschini, eh, per accelerare un po', in cui ho già preparato un po' di risposte, così abbiamo qualcosa, no? C'è solo un elemento, e facciamo qadd ans, uno, due, tre, quattro, tre, quattro, uffa, due, ah, qadd, vabbè, questo sono breve, ans tre, qadd, ans, quattro, ok, va bene questo console.log, ma noi proviamo a fare console.log di q.find all, e dunque, chi ha risposto? Harry, che ne so, Harry, ok? Quindi, è chiaro a tutti, qui abbiamo scritto il nostro find all, adesso abbiamo messo un po' più di risposte, nella nostra domanda, le abbiamo aggiunte, e proviamo a fare una chiamata, e vediamo se funziona. Ok, ha funzionato, eh, eh, quindi, ci ha ritornato un array, che si è aperta la quadra, in cui dentro c'era un answer, è così carino, che si ricorda, che, in qualche maniera, diciamo così, che l'oggetto ha un tipo, eh, una storia lunga, però, diciamo, così, che, eh, eh, c'è questa text, for you, eccetera, c'è quel testo che io ho messo io, di respondent Harry, eh, che era quello che cercavo, ok? Quindi, diciamo che, eh, voglio stampare, tutte queste risposte, proviamo, proviamo a fare così, così facciamo un po' di pratica con il funzionale, no, con la programmazione funzionale, questo è un array, perché il find all è un array, perché è il return di un list, di un filter, il filter ritorna sempre un array, piuttosto è un array vuoto, se non c'è niente, ma è un array, ok? Quindi un array su cui c'è il for each, ok? Cosa prende il for each? Questo è proprio il posto ideale per mettere il for each, eh? Prendiamo il nostro elemento dell'array, ci facciamo su, console.log, console.log e facciamo str, eh? Che quindi è la stringa, così ci aggiusta la data e tutte queste cose un po' bruttine, se non lo facciamo in questa maniera, ok? Quindi, allora mettiamo un po' di spazio, console.log, se no non si capisce più niente nella risposta, nella stampa, allora, l'ultima riga è quella che stampiamo, che è un array, eh? E stampiamo tutto l'array, c'è un solo elemento, lo stampiamo, ok? Facciamo così una prova temporanea, al posto di poll, ci mettiamo r, 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 salvo, sempre, e ci sono entrambe, ok? Quindi abbiamo fatto una cosa che dovrebbe funzionare, domanda? C'è esatta la corrispondenza tra la data che inseriamo nel programma e quella che c'è, se lui è normale? In che senso non è? C'è una di quell'esercizioni precedenti, come si trovava la lista di imposte? Perché dice non ci tornare? Ah, la viola, perché non è nel formato locale nostro, e quindi se noi, per questo che dicevo, dobbiamo un po' gestircela noi, se non mettiamo il formato, lui, quando, quando noi la creiamo, dove è andato? Noi la creiamo così, DGS, uno deve cercare sul manuale, uno deve cercare queste cose, però, DGS prende la stringa, la converte in una data, nel suo formato interno, che poi è quello che vediamo in questa stampa, in cui però considera il fuso orario in cui siamo noi, no? Quindi noi siamo un'ora indietro rispetto a UTC, che penso sia il formato che usa internamente, e quindi dentro c'è il 23, perché in realtà lui prende lo 0, la mezzanotte della data che abbiamo messo, perché non abbiamo messo ore, minuti, secondi, ok? E niente, quindi quando stampiamo, dovremmo evitare di far stampare l'oggetto in maniera autonoma, no? Sempre formattarlo noi, perché così abbiamo il controllo su quello che viene fuori, ok? Questo vale per DGS, ma vale anche per altri tipi di oggetti, più o meno complicati. Ok, grazie per l'osservazione, che comunque è interessante, ci dà modo di chiarire, appunto, che come in tutta la programmazione oggetta, se noi, come dire, abbiamo una rappresentazione interna dell'oggetto, e l'ideale è manipolarla con i metodi che ci vengono messi a disposizione, perché così leggiamo cosa ha pensato chi ha programmato quei metodi, e sappiamo esattamente come quei metodi funzionano. Se andiamo a vedere cosa c'è dentro l'oggetto, può esserci di tutto come abbiamo appena osservato. Benissimo. Quindi abbiamo fatto il nostro find all, facciamone una semplice, ma abbiamo tempo, list by score, quindi ritorna un array di risposte, ordinate per data crescente, però in realtà qui era per score decrescente, quindi per voto decrescente. Così proviamo a giocare con la sort, e vediamo come gestire questo aspetto. Sta sempre registrando, è vero? Ok, allora, andiamo a creare il metodo. Quindi, this, punto, questo non l'abbiamo chiamato, list by score, list by score, io uso questa notazione senza gli underscore, con le maiuscole, il camel case, vedete voi, secondo me, se mantenete un po' d'ordine nel codice, è la cosa migliore, più che altro per voi. Poi all'esame aiuta anche a leggere, però, voglio dire, soprattutto per voi. Ogni tanto sarà richiesto, ma ve lo faccio notare, quando è richiesto, poi col web, eccetera. Quindi, una funzione che fa, ci dà la lista, ordinata, per il voto, quindi per lo score, quindi non prende parametri, quindi apriamo, aperto e chiuso tonda, freccia, adesso apro le graffe, perché non so cosa vado a scrivere, poi eventualmente, si possono anche rimuovere, però, vediamo un attimo cosa ci scriviamo. Allora, come faccio a fare, this list, dunque, dovevamo ordinare per, per, score, no? Quindi, abbiamo già fatto la sort, l'altra volta abbiamo provato per una sort, no? La sort prende una funzione, è una callback, oggi la chiamiamo proprio callback, no? Quindi è una funzione che usa la sort, a, b, posso chiamarla x, y, non fa niente, freccia, e, dunque, devo ordinare per score, e quindi cosa faccio? a, score, meno b, score, no? Si chiama score, la proprietà dell'answer, si chiama score, no? Quindi io avrò a disposizione, in a e b, riferimenti, i due oggetti, answer, answer, che stanno venendo ordinati dalla sort, ok? Qual è il problema di questo codice? Guardi, per se non è che è un particolare problema, tranne il fatto che mi va a riordinare il list che io ho dentro l'oggetto question, ok? Perché il sort funziona in place, cioè mi va a modificare l'array, ok? Non è esattamente quello che io desidererei in un paradigma di tipo funzionale. Purtroppo non esiste una, come dire, una sorta dell'array che funziona come la filter e la map che ritorna un altro array, cioè un array nuovo, no? Mi riordina l'array. E quindi, e quindi se voglio un array nuovo me lo devo fare, c'è niente da fare, ok? Quindi, se siamo dei pateti del javascript complicato, scriviamo tutto su una sola riga, io eviterei, però provate a modificarlo voi, poi se volete, facciamo const, diciamo così, new list, così rimane un po' più esplicito. Creiamo un nuovo array, una copia dell'array, shallow copy va benissimo, perché le answer non andiamo a toccarle, no? Quindi non abbiamo bisogno di duplicare anche le answer. Come facciamo a creare la copia dell'array? ho già quasi scritto, però, array from, array of, a seconda che abbiamo i singoli valori, piuttosto che l'array intero, oppure, tre puntini, this list, no? Ok, allora a questo punto facciamo, non this list, ma new list, e qui ci serve il return, no? Perché questo è quello che dobbiamo ritornare, ok? Buon. proviamola, quindi abbiamo list by score, andiamo a provarla, vediamo se funziona, quindi q list by score, non ha parametri, e vogliamo stamparla, e facciamo pure il nostro for each, esattamente come prima, non c'è niente di, c'è una tonda di troppo, ok, meno 2, meno 1, 1, 3, la volevamo in ordine decrescente, allora, se volete andate a leggervi la pagina in manuale, come bisogna scrivere la funzione, eccetera, facciamo prima provarla, e capire se ci siamo sbagliati, facciamo b meno a, cioè invertiamo la funzione, e abbiamo invertito l'ordine, quindi, 3, 1, meno 1, 2, ok, va bene, piuttosto di capire, dunque, vuole meno 1, se A è prima di B, eccetera, e quindi di default, se tu gli metti meno 1, ordine crescente, decrescente, fate una prova, e avete risolto il problema, se si può, se no, vabbè, e cercheremo di capire dal manuale, ok, quindi, abbiamo creato la funzione per ordinare, sulla base dello score, ok, creiamo quella, cos'è che volevamo ancora, list by date, no, facciamo prima l'altra, after date, che ha il suo senso, this after, after date, dunque, allora, io devo passare una data, no, è la data dopo la quale, cioè, per cui, io voglio che, mi vengano restituite, tutte le risposte, che sono dopo una certa data, quindi, date, freccia, e, ecco, qui proviamo a vedere, se riusciamo a scriverla, su una sola riga, così facciamo pratica, eh, dunque, come faccio a, prendere da un array, tutte sole, le answer, che hanno una data, dopo, quella che io passo, è come prima, qui, qui abbiamo solo, due metodi, come vi dicevo, che si usano tanto, negli array, filter, e map, questa è una filter, perché, tutte le volte che selezioniamo qualcosa dall'array, è una filter, con la map, facciamo delle modifiche, eh, quindi, che so, ci volessimo far ritornare, solo la lista, di tutti i voti, faremo una map, magari dopo possiamo farla, eh, se abbiamo un po' di tempo, quindi, allora, this list, filter, e l'unica cosa che cambia, è come, eh, scriviamo, la callback, che è quella che ci seleziona, quello che interessa a noi, allora, solito elemento, io metto e, ma potete mettere quello che volete, e, punto, date, e questa è una data, eh, cioè, una data, cioè un oggetto, date.js, come faccio a trovare, eh, tutte le date, che sono, dopo la data, che mi viene passata, devo andare su, day.js, e andare a cercare il metodo, o su google, andare a cercare un metodo, eh, quindi, eh, set, get, manipulate, onestamente, non, display, query, sarà in sottoquery, oh, c'è un is after, eh, raccomandiamo day.js, anche perché ha un manuale decente, eh, rispetto a un date, in cui magari, nel date standard di javascript, dovete prendere, farvi la differenza, sperare che funzioni bene, vedere che segno ha, eccetera, no, quindi, il day.js è abbastanza ben fatto, no, quindi, un elemento, un oggetto day.js, ha un metodo is after, oh, che è proprio carino, ci piace molto, eh, eh, e, e quindi andiamo a usarlo, eh, vediamo un po' se c'è, is, after, eh, no, perché mi ha scritto da un'altra parte, date, is, ecco, non c'è, eh, non ve lo suggerisce, ma c'è, ok, quindi, eh, il viso studio di quadro, non è onnisciente, se ci mettete, boh, forse qualche, eh, sempre che non abbia sbagliato qualcosa, ma dovrebbe essere giusto, no, date, si chiama, is after, che cosa, la date che io ricevo, qua, ok, ah, mi è scappata la graffa di prima, per quello che è, ok, eh, punto è virgola, quindi, questa è la callback, che diamo alla filter, per selezionarci solo certi elementi dell'array, la filter ci ritorna un nuovo array, ok, va benissimo, boh, siccome ho scritto un'unica istruzione, un arrow function, questa va già direttamente nel valore ritorno, dovrebbe funzionare tutto così, ok, se no, se no mi sono perso qualcosa, quindi facciamo ancora l'ultima prova, quindi, list, no, non era list, ma è, after date, devo mettergli una data, quindi, day.js, eh, 2023, 0, 3, 0, cosa c'è, 0, 2, 0, proviamo 3, ok, quindi, facciamo la prova, mi viene fuori tutto ciò che dopo il 3, 7, 4, ok, quindi funziona, allo meno, in questa prova funziona, poi come sapete, non si può mai dimostrare che il codice sia tutto corretto, però, diciamo, se fate un numero ragionevole di prove ben fatte, se volete, se volete proprio essere ultra javascript, togliete ancora le tonde, da, sul singolo parametro, eh, così abbiamo fatto proprio, questo, l'idioma più javascript che si può pensare, eh, abbiamo scritto, tutto su un'unica riga, il metodo, senza scrivere tu, senza scrivere niente, nella maniera più, possiamo togliere ancora questo, nella maniera più, più compatta e, non voglio dire illegibile, perché alla fine ci prendete la mano e riuscite, no, a leggerlo, non è così complicato, però, come dire, questo è proprio stile javascript, ok, non è che ci teniamo per forza dello stile javascript, se all'esame ci sono due parentesi in più, non succede niente, anzi, va benissimo, eh, però, ci tengo a farvelo vedere, perché, perché poi negli esempi in giro, è pieno di codice scritto così, e, e vi raccapezzate poco, ok, mentre qui erano obbligatorie, le parentesi, perché c'era a e b, eh, se il secondo parametro è la chiamata sort, o se è da tenere insieme per l'altro function, va bene, ehm, dobbiamo fare ancora un metodo, giusto? sì, che è interessante, dove è andato, list by date, che sembra un'idiozia, cioè abbiamo la list by score, proviamo la list by date, no? la list by date, cosa vuoi che ci voglia? infatti copiamo un po' di codice, eh, quindi questo, sì, list by date, e vedremo che non è sempre tutto liscio, list by date, eh, di nuovo, vi compatto un po' il codice, proprio per prendere un po' l'abitudine, eh, quindi, eh, no, vabbè, non esageriamo, facciamo almeno un retorno, allora, duplichiamo la nostra lista, quindi il new list non c'è più, eh, perché? perché non vogliamo modificare l'area originale, no? il this list, se ci andasse bene a modificarlo, va bene farla sort direttamente lì sopra, però, va un po' fuori dallo stile programmazione oggetti, no? dove i metodi, di solito, se non sono fatti per toccare, modificare proprio i valori interni dell'oggetto, di solito non li modificano, no? Magari quella lì, quell'ordine delle domande, ha un suo significato per il mio oggetto, non lo so, in questo momento non l'ho specificato, quindi non posso saperlo, però, quindi proviamo a crearne uno nuovo, come abbiamo fatto prima, c'è una sort, a b, c'è b date, meno a date, che però purtroppo non funziona come ci aspettiamo, eh, perché se non, non si può fare la sottrazione di due oggetti, eh, perché se nessuno ha definito come si fa la sottrazione di questo oggetto, dall'altro, non è che viene fuori un numero, no? forse viene fuori un errore, un andefa, non so cosa venga, in realtà non l'ho provato, bisognerebbe fare una prova e vedere, eh, onestamente non so dirvi se si possa fare l'overload dell'operatore meno, per gli oggetti in javascript, quindi, come si fa per esempio in c++, eccetera, quindi, evitiamo questa cosa, eh, eh, come facciamo? Allora, dobbiamo trovare un'altra espressione, che ci dia, che cosa, ecco, il che cosa è la cosa interessante, andiamo a vedercela, perché vale la pena di andarla a vedere, abbiamo la sort qui, sottomano, siamo nell'array sort, fa l'array sort in place, eccetera, va bene, la funzione A, B, il valore di ritorno, no, questo è il valore di ritorno della sort, a noi interessate il valore di ritorno della funzione di callback, ecco, tra l'altro, se andate poi nella pagina del manuale, è una funzione come la sort, che è abbastanza complicata, ci sono specificati tanti casi particolari, per esempio, se ci sono degli slot vuoti nell'array, la sort li preserva, non è che li compatta, se c'è un undefined, e così via, ve li tiene, eccetera, quindi se avete dei dubbi su questi casi particolari, e volete una risposta certa, non l'ultimo tizio che parla appunto su internet, da qualche parte, questa è la pagina di manuale, vi dice come si comporta, e se non è definito, vi dice, non c'è un comportamento definito, quindi non puoi fare assunzione su questo, e cambi sistema di programmare, se tu hai bisogno di fare un'assunzione, ecco, la funzione, se è fornita, deve ritornare, maggiore di zero, minore di zero, uguale a zero, ok? quindi vabbè, questa diciamo così, è uno pseudocodice per dire, se A è minore di B, in un certo tipo di ordinamento, come il nostro della data, deve dare minore di zero, tipo meno uno, se no da uno, se è uguale, deve dare zero, quindi sono tre valori che deve tornare, ok? Tre casi, ecco, una funzione di questo tipo, deve avere queste proprietà, per assicurare che la sort funzioni correttamente, va bene, pura non deve modificare gli oggetti, stabile, dà lo stesso risultato ogni volta che testiamo gli stessi oggetti, questo mi sembra il minimo, se testiamo i due, cioè se i due parametri sono uguali, deve dare zero, questo antisimmetrico, devono dare o entrambi zero, o devono dare più e meno, questo non è così scontato, questa è una cosa importante da notare, e transitivo va bene, diciamo così, che è chiaro che se A viene prima di B, e B viene prima di C, A viene prima di C, però vi faccio notare questa, perché non è così scontata, perché, poi sotto, se noi non leggessimo bene questa, ci potrebbe venire da scrivere, qui no, A, abbiamo usato prima, cos'era, date, is after, no, per dire, B, date, no, boh, cosa c'è di male, is after, no, vero o falso, ma vero o falso non è, positivo, zero, negativo, eh, intanto dobbiamo andare a vedere, cosa, cosa ci da, se sono uguali, probabilmente ci darà, falso, perché sono uguali, non lo so, bisognerebbe andare a vedere, però io vorrei farvi notare, che questa cosa qua, non rispetta, questa proprietà, ok, e qual è il problema, di non rispettare questa proprietà, è che la sorte, si aspetta che questa proprietà, sia rispettata, e soprattutto, se andate a leggere più avanti, ieri sera, l'ho fatto, se fornite qualcosa, che non funziona bene, meno uno, zero, uno, poi, andate nelle grane, detto proprio, in termini un po', terra a terra, quindi, si creano dei problemi, no, quindi, se la funzione, non è ben scritta, perché non è antisimmetrica, c'è quella proprietà, che vedevamo prima, perché ci dà, zero, magari, cioè, non ci dà, meno uno, zero, uno, nei casi appropriati, finisce che, a seconda dell'implementazione, che trovate, della sorte, avete dei risultati, tutti diversi, dal, non funziona, quindi, non ordina niente, al, funziona lo stesso, ok, quindi, bisogna sempre fare attenzione, a scrivere le cose, un pullback, nella maniera in cui, la funzione, che le riceve, si aspetta, ok, quindi, occhio, questo è uno dei casi, più macchinosi, perché la sort, poi viene, fa l'ottimizzazione, poi c'è la questione, della stabilità, eccetera, però, come dire, bisogna sempre stare all'occhio, quindi, io vi consiglio, in questo caso, di fare, una cosa diversa, se noi andiamo a vedere, sulla pagina manuale, della date, quindi, no, della day, la date, e qui, qui, non interessa di più, in manipulate, subtract, qual è la maniera, perché non viene fuori, ci mette il suo tempo, no, subtract, non mi piace, dove è il calcolo, display qui, allora forse era in query, dovrebbe esserci, diciamo, sto cercando qualcosa, che mi consenta di, ecco, due rete, durate, penso forse sotto durata, no, ah, subtract, no, diff, allora, sto cercando, la maniera di fare, la differenza di due, date, no, dove è andata, non c'è, e quando non trovo qui, facciamo così, eh, lo potete fare anche voi, eh, su display, ed è su display, differenza, grazie, se no, fate come stavo per fare, aprite google, day.js, diff, dates, e vi porta la pagina, che stavo cercando, giù di lì, ok, facciamo lo stesso approccio, che noi sappiamo funzionare, alla fine, cos'è una data, non è nient'altro, che una rappresentazione, di un istante di tempo, che alla fine, sono secondi, millisecondi, a partire da una data fissa, che esattamente, poi la rappresentazione interna, che usa per fare tutti i suoi calcoli, per esempio la differenza, no? Perché ogni tanto avete bisogno di sapere, appunto, se una data è prima di un'altra, piuttosto che, quanti secondi, minuti, ore, eccetera, sono passati da un istante a un altro. Quindi c'è, diff, che ci ritorna un valore positivo, zero o negativo, fa proprio il caso nostro, come il meno, no? Di a meno b, quando abbiamo i numeri. Quindi, allora, a date, diff, vediamo se spunta fuori, diff, vedete che non vi spunta, Perché non vi spunta nella lista del Visio Studio Code? Ma perché il Visio Studio Code non è che può sapere, su tutti gli oggetti che toccate, di che tipo è, da dove arriva, cosa sarà, eccetera. Cioè, questa è una callback, che può ricevere di tutto, e noi lo stiamo usando, su una lista che abbiamo, diciamo, clonato da questa, che però, diciamo, bisognerebbe capire, che poi nella ad noi mettiamo dell'answer, cioè, non è che può sapere tutte queste cose, il motivo per cui, non è che sempre vi può suggerire tutto, certe cose sono un po' stimate, certe cose sono, invece sono un po' più dirette, no? E quindi, si possono ricavare. Cioè, non è un linguaggio strongly typed, per cui ogni cosa che tocchiamo, ha il suo tipo, per cui, non è che ci si può sbagliare, se fa il parsing, riesce a capirlo. Allora, qui, dunque, avevamo fatto list by date, e vediamo cosa viene fuori. No, ho sbagliato, cos'è che mi sono, ah, ho spaccioccato, no, ho spaccioccato il file sbagliato. Cribbio. Niente, avevo la mia bozza aperta, no, è giusto il file, non l'ho salvato, ecco. Ok, for each, list by date, ho scritto, list, devo chiamare? Ah, devo chiamarla, giusta, bravissima, ha ragione. se no cerchiamo la proprietà dentro un riferimento che non funziona, ovviamente non c'è, grazie. Ottimo, benissimo, siete più attenti di me, perfetto. quindi, uno, due, quattro, sette, no? Quindi me l'ho ordinato, adesso vado solo a vedere, li voleva in ordine crescente, sì, increasing date, boh, sono a posto, se no scambio, no, ho metto meno, semplicemente mettete meno, eh, meno, questo è un numero, meno a date, b date, le ordine a rovescio, eh, niente di stratosferico, ma questo, insomma, è quasi offensivo. da far vedere. Ok, e quindi io ho finito il mio esercizio, abbiamo fatto, beh, possiamo fare una map, facciamo una map, perché, eh, list, eh, facciamo, facciamo il voto medio, eh, average, score, ok? Allora, non ci sono parametri, perché i dati sono tutti, lì dentro. Abbiamo una lista di cui vogliamo prendere solo i voti e farne la media, ok? Quindi, eh, facciamo, adesso ve lo scrivo un po' così, ragionando insieme a voi, eh, con, eh, const, eh, new, votes, votes, uguale, eh, a questo punto, abbiamo il, this list, e qui, li vogliamo tutti, quindi questo è il posto della map, ok? Li vogliamo tutti, quindi map, dobbiamo capire cosa vogliamo, Allora, e, ha, è un answer, quindi al suo score, a noi interessano solo gli score, abbiamo estratto dall'array, tutti gli score, abbiamo fatto diventare l'array, votes, un array di soli numeri, che sono tutti gli score. A questo punto ci calcoliamo la nostra media, ok? Eh, possiamo fare, eh, for, facciamola, for, eh, v, no, v sembra vettore, val, off, votes, eh, in realtà dovremmo fare, sum, facciamo sum, zero, questo è c, no, sum più uguale, eh, val, sum diviso, votes, length, length, ok? Quindi, ultima cosa, console, log, q, average, score, lo chiamiamo, eh, e ci darà un valore, vediamo cosa viene fuori, un errore, sum is not defined, let sum, uff, ah, let, vale, anche cost, eh, noi ci piace il cost, ok, 0,25, per i ansi è giusto, proviamo, eh, meno 3, più 4, 1, diviso 4, 0,25, ok, questo è lo stile C, abbiamo visto la reduce stamattina, facciamo l'ultima prova con la reduce, ok? Quindi, questo codice va benissimo, è perfetto, tanto la, non è che si può fare in tante altre maniere la media, se non abbiamo un metodo media sull'array, ce lo teniamo così, e la reduce, allora, votes, votes, reduce, quindi reduce c'è perché è un metodo di tutti gli array, noi vogliamo la callback, che deve avere il valore, eh, accumulato, eh, il valore corrente dell'array, e dobbiamo restituire il nuovo valore, quindi, facciamo come va scritto sulle slide, avevamo, h più, val, diviso, ci serviva la lunghezza, se vogliamo già dividere, se no dividiamo dopo, ma visto che facciamo pratica, facciamo come facciamo sulle slide, quindi c'è l'indice, tanto non lo useremo, pazienza, e ci sarà l'array, e allora facciamo ar length, ok, virgola, questa è la callback, il secondo parametro è il valore iniziale di h, l'accumulator, quello che sotto ho chiamato sum, 0, ok, e questo è il valore, no, se io faccio un return, ovviamente poi mi dice sotto, guarda, non funziona più, ok, così ho scritto una reduce, sempre 0,25, bene, meno male, quando questo codice live, è sempre, ok, ma questa è la programmazione funzionale, abbiamo detto, mettiamo le cose in catena, sì, una domanda che ho fatto, perché ar length funziona, ogni volta non può sempre dividerla, ogni volta divide, ma divide solo la seconda parte, divide solo il valore, non ho messo, accio più val diviso length, se no sarebbe sbagliato, divide solo il valore, quindi ogni volta sommiamo, il valore è già diviso per il totale, così evitiamo di fare l'operazione fuori, ma è solo una questione di stile, se prendiamo il totale, facciamo la divisione alla fine, va bene lo stesso, ha una domanda? A me dovremmo anche in Italia di fare la mappa, prendere il valore del valore? Certo, 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 infatti lo facciamo, adesso lo facciamo, ottima osservazione, volevo dirlo prima durante le slide, poi mi sembrava un po' eccessivo, quindi, allora, prima di tutto vi faccio vedere che si mette tutto in catena e funziona tutto, quindi se noi facciamo return, quindi questa è proprio l'idea della programmazione funzionale, return, list, map, facciamo la map, poi facciamo la reduce, otteniamo un valore e lo ritorniamo, proviamo, come abbiamo visto sull'esempio di prima, proviamo sempre 0,25, come dice il vostro collega, io ho voluto ficcare questa map perché volevo farvi vedere la map, ma in realtà, in realtà possiamo, possiamo anche farne a meno, no, quindi proviamo a farlo, poi ve la lascio nell'esempio finale che vi carico, così vedete la map, però, siccome la reduce è già un po' complicata di suo, non volevo impaccioccarla troppo, però se noi mettiamo, no, scusate, questo è val, lo mettiamo qui, val score, no, perché val è l'oggetto dell'array, se noi vogliamo estrarre qualcosa, possiamo farlo, possiamo farlo tutte le volte che ne abbiamo bisogno, no, sempre 0,25, quindi la map è un po' superflua, la map ci servirà, più avanti, quando abbiamo poi il codice HTML, e dobbiamo creare, che so, i JSX, il codice, dei nostri dati, e quindi dobbiamo effettivamente, più che ridurli, espanderli, creare nuovi array, e così via, ok, vi lascio il codice di prima, tanto vi resta nella registrazione, proviamolo, ok, e, giovedì, ci sarà da fare un po' di pratica, su queste cose, in laboratorio, ovviamente, prima di tutto, facciamo in modo che funzioni l'ambiente, quindi se avete il vostro computer, lo portate, e facciamo in modo che, avete il Visual Studio Code, che funziona, che funziona, e così via, così che possiate lavorare, e poi, c'è un esercizio, su queste cose qua, per fare un po' di pratica, scusate, ancora, un'ultimissima cosa, io vi carico tutto, ma non vi carico, il Node Modules, il Node Modules, voi usate un sistema di versione, o passate il codice al vostro collega, non è da passare, perché, adesso è piccolino, c'è dentro una libreria, quando avremo Reac, ci saranno 300 mega di roba, ok, il Node Modules, aspetta, un attimo solo, si può sempre ricreare, basta che io ottenga il package.json, ok, ovviamente se non c'è, non funziona, però come si ricrea? Con l'npm install, senza parametri, siccome nel package.json c'è scritto, che c'è il day.js, se io do npm install, trova il day.js, me lo ricrea, me lo rimette il Node Modules, adesso quando è finito, e torna tutto, ok, quindi io non vi caricherò mai il Node Modules, vi carico il package.json, e anche il package.lock, che va bene, non è indispensabile, ma va bene così, voi scaricate, fate npm install, e vi installa tutte le librerie, se partite da zero, dovete proprio fare l'npm init, e iniziare, da zero il progetto, inizializzarlo, e metterci cosa volete voi, ok, bene, direi che abbiamo finito, e ci vediamo, ci vediamo, grazie.